Questo video riguarda i migliori tre cricchi idraulici a bottiglia. Il vincitore della qualità è il CarTrend 1007. Portata fino a 5.000 kg altezza minima, 207 mm altezza massima, 402 mm altezza di sollevamento, 125 mm altezza del mandrino, 70 mm olio idraulico, HLP46. Tutto in auto. CarTrend è il marchio di accessori per auto e offre prodotti di alta qualità per auto e riparazioni. Il campo di applicazione si estende intorno all'intera auto, oltre alle parti usurate come tergicristalli o lampade per auto, la vasta gamma di prodotti comprende anche articoli stagionali come catene da neve e offre con il settore Caravan anche una gamma a tema. Inoltre, vengono portati prodotti come lucidatrici o diversi strumenti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Health Gear Crick Bottiglia. Martinetto idraulico a bottiglia per impieghi gravosi, con capacità di carico fino a 2 tonnellate. Questo supporto di sollevamento per Crick per auto è progettato con elevate prestazioni ed ergonomia. Contribuisci a rendere la sostituzione del tuo pneumatico facile e veloce, facile da trasportare. Il Martinetto Verticale 2 ti è realizzato con un corpo in acciaio ad alta densità. Elevata durezza e resistenza all'usura, super robusto per il sollevamento di auto. Altezza massima 287 mm inclusa l'altezza di sollevamento, l'altezza minima minore o uguale a 148 mm barra 5,82 pollici, altezza di sollevamento maggiore o uguale a 80 mm barra 3,14 pollici. Il vincitore del premio è il Greco Crick Sollevatore. Eccellente ed utilissimo prodotto che non può mai mancare nel kit d'emergenza del guidatore e o per tutti coloro che percorrono molti chilometri giornalmente. Quante volte sarà capitato di forare una gomma e trovare mille difficoltà nel cambiarla, oppure quanti sforzi fatti utilizzando il classico Crick in dotazione. Da oggi con questo Crick tutto risulterà più semplice e con fatica pari a zero, poiché avrete a disposizione un nuovo prodotto che utilizza una tecnologia già utilizzata dai professionisti del settore. Il sollevatore ha pressione idraulica, con forma bottiglia, trasportabile in uno spazio davvero ridotto, ed in caso d'utilizzo, basterà metterlo sotto la vettura, inserire l'asta metallica in dotazione e facendo pressione con l'apposito congegno, la vostra auto sarà sollevata senza alcuna difficoltà. Il Crick composto interamente in lega metallica di prima scelta per essere affidabile è sempre pronto all'uso. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.